E' ancora questa lente azzurra? Con la finestra, no? Ciao, Sergio. Avete fatto sega pure oggi? Certo. Ti aspettavi? No, ti aspettavo a mezzo cuore. No, le pedine. E' un bacio. Vabbè, io sto sempre in fissa con te. Non mi piace, dove vai? C'è pure l'affarecchio. A me tutto rincasso. Voi non mi guardate. 30 euro. Sì, 30. Come 10 euro. 40 tutte e due? No, io sono fidanzato un posto. Ma io non ti mani la torsia? Sai che questo è la madame, lo fa quando gli pare, eh? Questo è un crocevisto di metà a posto. No, non ce lo metto a posto. Perché? Perché deve stare là? Perché rispetto delle religioni. A posto della tua religione, non da la mia. Ma che vuol dire che ho 16 anni? Non posso avere la pischella perché ho 16 anni? Ma che stai a dire? Sei musulmano o no? Sono musulmano, beh? Lo so, si può fare o no? Ti vuol dire che a 16 anni lo scopai pure te? Come cazzo fai a lasciare un figlio fuori casa? Come fai? Vuol dire che sono popo arabi? Perché te che sei? Sei italiano. È sporco di sangue. Ma non ho la costella di un po' che è pulito. Perché sei dalla scuola? Sei efficiente? Che stai a fare? Torno a casa. No ho la costella. Grazie a tutti.